Bentornati ladies and gentlemen per questo nuovo video sono sempre io Fanto90 e quest'oggi siamo tornati su GTA 5 con la mod della polizia e visto che comunque gli ultimi casi non è che siamo andati così bene insomma il dipartimento ha avuto qualcosa da ridire sull'agente Fanto ci hanno trasferito allo sceriffato di Paleto Bay Quindi adesso dobbiamo occuparci di questa piccola cittadina che praticamente cade a pezzi ah qua c'è un cartello ha gestito con successo 35 giorni senza arresti per narcotici mi sa che è tempo di rovinare questo record se questo video arriva a 2000 mi piace prossimo video sulla mod della polizia veramente speciale ragazzi speciale allora c'è qualche chiamata ho sentito help help signora ha detto help nessun problema l'arrestiamo subito Ho un taser non me lo faccio usare tranquilla ho tutto sotto controllo faccia terra forza la portiamo a farsi un bel giro al fresco oggi Che che urla venga forza entri dentro non c'è più niente a dire andiamo in galera Da fuck is that all about ha infastidito quella signorina vabbè quello che era comunque adesso la porto in galera venga questa cella fa più per lei venga forza Entri dentro Cosa hai detto scusa cosa hai detto non provarci più Oh avevi pure dei soldi per favore lasci il signor camera un caravello in cella e se ne vada ok ce ne andiamo Eh credo che un prigioniero si sia sentito male qua eh facciamo il nostro giro di pattuglia a paleto bay Sospetto quel camper lì ragazzi mi sa che viene usato per la produzione di metanfetamina Ok li siamo dietro vediamo se va da qualche parte specifica oppure lo facciamo accostare controlliamo un attimo la targa Si fermi accosti se ne sbattono No ragazzi posto di blocco Allora fermi un attimo mi serve il taccuino da gente speciale della polizia un foglio di carta con le robe scritte su Allora fermi che prendo la targa un attimo allora abbiamo 69YTM470 Grazie per la vostra collaborazione signori Un attimo solo che controllo la targa se avete qualche accusa vostro carico Entriamo subito nel computer di bordo Vehicle database L'assicurazione è valida Registrazione è valida 54 anni Valida non è ricercato mannaggia no Il numero di volte è stoppato una E' stata colpa mia scusi ma dietro c'è un altro camper Ok voi potete andare controlliamo il successivo E' un posto di blocco per camper Sospettiamo che ci siano narcotrafficanti in zona No cosa fai è la cosa più sbagliata che puoi fare con la gente Fanto è fare questa cosa qua C'è un posto di blocco no 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 Abbiamo risposto una chiamata però prima controlliamo questo camper che non me la racconta giusta Oh scusi 42 Cosa sta facendo cosa sta facendo No ragazzi è chiaramente un fuggitivo qua bisogna arrestarlo con le dure Scenda da questo veicolo Scenda da questo veicolo Produce metanfetamina lei Produce metanfetamina Si metta giù adesso Forza Forza Stia calmo lei Stia calmo Oh mio dio Sta scappando No il sospetto A un infernus come lo inseguiamo con questa macchina polizia schifosa Purtroppo non abbiamo preso la targa Dobbiamo lasciarla andare per forza Ma a lei la arrestiamo e la portiamo in galera E una l'abbiamo arrestata Ora se non le dispiace la portiamo alla prossima chiamata che abbiamo un agente in pericolo credo Ha attivato il bottone il bottone antipanico Cosa sta succedendo qui signori Uuuuh sbagliatissima cosa da fare Fermo Con un martello eh Con un martello colpivi la polizia Mi sa proprio di no Ok questo lo prendo io Cioè stava colpendo un poliziotto con il martello Ma non ci siamo proprio Ok Ne abbiamo preso un altro E ora tocca A lei È la complice Stia ferma Ha una monotof in mano Questa la prendo io per altri arresti Perché sento sireno ovunque No è un mio caso questo È un mio caso ok Non è affare vostro questo Ok va bene Perché quello è uscito Perché è uscito dalla macchina Eh Perché è uscito dalla macchina Senza permesso Non si esce dalla macchina Ok Lo so che non è una pratica molto consola Ma perché c'è tutta sta polizia No 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 Tu devi venire con noi assolutamente Non puoi salire perché Il nostro veicolo non ha abbastanza spazio La puoi smettere con queste sirene Grazie Oh no Per far smettere di suonare le sirene Ho tipo tirato un calcio della pistola In faccia a lui Vabbè Un prigioniero in meno di cui occuparsi Lui dice Diamine Perché devo occuparmi sempre io Delle scartoffie Il suo ragazzo purtroppo è morto Non si infrange la legge Nella mia città A quanto pare si sono occupati Dell'altro prigioniero Allora La sua nuova cella è questa Venga forza Lei in arresto Benvenuta all'inferno Portiamo dentro in cella anche lei Ma Ha cambiato cella? Senza il mio permesso? Le avevo dato quelle in mezzo Chi è che ha spostato il prigioniero? Chi ha spostato il prigioniero? Oh no I'm so sorry I'm so sorry Un bel niente Per ora nessuna chiamata Passiamo con il rosso Tanto siamo alla polizia Ehi Che succede qua? Merce illegale forse? Dov'è la targa del Rimorchio? Scusi Si fermi un attimo Dobbiamo fare un controllino Stia tranquillo Dobbiamo solo fare un controllo Del suo veicolo E a lei Si è tutto in regola Allora Ci faccia vedere Un documento Presto Allora Lei è il signor Francis Donnelly Francis eh Non avrebbe fatto mica qualcosa Francis Vero? Signor Francis Tutto a posto Tutto a posto Abbiamo una chiamata Via da qua Abbiamo uno stolen tanker Che credo sia un Rimorchio Tipo Probabilmente di benzina Eccolo Eccolo Oddio E' roba esplosiva quella Se li spariamo E' finita per lui Cosa sta facendo? E' impazzito? Se la sta prendendo Con il dipartimento Ha molato lì il rimorchio Dove sta andando? Dove stava scappando? Pazza di criminale Ok abbiamo chiamato Un trasporto prigionieri Quindi tra poco Verrai portato in prigione Che è lì Quindi Non ho neanche voglia Di fare due passi Per te Sei proprio la feccia Dell'umanità Lo vado a prendere Lo vado a prendere Corra prima che scappa Corra prima che scappa Dove sta andando? E' impazzito? E' dietro E' dietro di lei E' dietro di Dobbiamo controllare Se è sotto l'effetto Di qualche sostanza Questo tipo qua Hanno segnato Un conducente Sotto l'effetto Di qualcosa Ed è qua sotto Andiamo subito A prenderlo Eccolo Li siamo appresso Ok Li abbiamo detto Di fermarsi Sta scappando Non si è fermato Possiamo scegliere Le tattiche Dell'inseguimento Quanto è veloce? Facciamo Fallout aggressive La tattica Perché questo è fuori di testa Mi serve tutto Tutto per questo inseguimento Li abbiamo detto Di essere aggressivi Vediamo come se la prendono Col sospetto Ragazzi aggressivi Contro il sospetto Non contro Le vostre stesse pattuglie Forza prendetelo Mio dio Non contro di me Niente E' troppo veloce Devo bucargli una ruota Ci faccia passare Ok Abbiamo preso la ruota Ha evitato un incidente Non so come Non è il modo regolare Per fermare un sospetto Questo però Funziona Quindi Ragazzi Dovete essere aggressivi Aggressivi Full out aggressivo Ho detto Ok Dovete andarle addosso Dovete speronarlo Dovete devastarlo Vabbè Sarò io aggressivo con lui Gli buco tutte le ruote Così Salve Razza di Ancora lei Ma in questa città Sono tutti biondi Criminali Pensavo di farla franca Nella mia città E invece no Signore ci penso io All'ennesimo arresto Non pensavo che in questa città Ci fossero così Tanti criminali Oh mio dio Cosa ho fatto Non volevo In realtà volevo benissimo Però non volevo Oh mio dio Sto per esplodere La salvo io Venga qui No non può essere lui Due pacchi camionista Ragazzi Ma ti è esploso il camion E te ne vai così Due pacchi che decide Di arrivare E far esplodere Il camion Vogliamo scoprire Il vero nome di due pacchi Adesso Ci diamo documento Forza Tempo di andare in galera Due pacchi E non mi direi che ti Di cosa è sbagliato Non mi sembra proprio normale Far esplodere un camion In mezzo alla mia città Quindi forza Entri dentro La portiamo in galera Un inseguimento Un inseguimento Purtroppo devo portare due pacchi Voglio vedere come si risolve Un caso velocemente Si risolve così Un caso velocemente Risolto Venga due pacchi L'ultima cella è per lei Purtroppo non abbiamo Molte celle Mi dispiace due pacchi Però comunque Ti ho risolvato l'ultima Guarda Pure vicino ai poliziotti Bon Abbiamo riempito tutte le celle In un'unica giornata di lavoro Se non sono il poliziotto migliore Io qua Chi lo è? Chi lo è? Visto che nei boschi Ogni tanto sparisce qualcuno Potremmo andare a vedere Se C'è qualche caso speciale Da seguire nel bosco Però adesso È tempo dell'inseguimento Va bene L'abbiamo fatto fuori Oh Cristo Uh abbiamo un altro Sospettato qua Dove vuole andare? Le trancio i piedi Con la macchina Se non si ferma Fermo No l'ho fatto fuori Volevo sparare alle gambe Vabbè Nessuno ha visto niente Noi ci ne possiamo andare Tranquillamente Ok Non si fa Non si fa Non si fa Mai prendere la macchina Della gente fanto Devo dire che abbiamo Diminuito di molto Il tasso di criminalità In questa città Ci sono dei puntini bianchi Che non me la raccontano giusta Che cosa sono Quei puntini bianchi Sulla mappa Oh mio dio Guida pericolosa Doppia striscia Non si sorpassa Qui dobbiamo fermarla Assolutamente È una gara credo Ce n'è un altro di puntino Ce n'è uno sulla moto Veicol racing Come fai a gareggiare ora? Eh? Gareggia ora È questo che si fa A chi gareggia con i veicoli Non bisogna arrestarli Bisogna demolirli il veicolo Poi Una blista Contro una moto Ma che gara è? Scusate Un altro puntino bianco Sulla mappa? Questo però è da solo Quindi non può essere una gara Che cos'è? Ok Vediamo che cos'è Vehicle database Il bobcat Sì Allora vediamo che cosa abbiamo su questo bobcat Assicurazione valida Registrazione valida Perché me l'hanno fatto ricercare? Creiamo un arrest report per questo tizio Che non sa cosa abbia fatto Allora John Scranson Lo arrestiamo per Possesso di droga Rapimento aggravato Omicidio di un agente di polizia Chiediamoli qualcosa Ma qualcosa di illegale nel suo veicolo? Ahà Sei pure nero A volte Ha risposto che a volte Qualcuno gli prende il veicolo Fuori dal veicolo Forza E lei non avrebbe bevuto? Non avrebbe preso droghe? Ma non ci credo proprio Guarda Mi sembra che il suo fanale Abbia qualche problema Io volevo colpire il fanale Non volevo colpire lui Dobbiamo simulare un incidente Dobbiamo assolutamente simulare un incidente Ok Bevi un po' di benzina Bevi un po' di benzina Eliminare le prove Eliminare ogni tipo di prova Oh Bevi un po' di benzina Via da qua adesso Via da qua Beh addio signor Oh cavolo Addio cavolo Scendere dal veicolo Abbandonare il veicolo Ho fatto un po' di casino Mi sta in autostrada E ho perso pure il mio di veicolo Mi sa che pure lo sceriffato di Paleto Bay Non ci vorrà più Ragazzi direi che possiamo terminare qui il video Con questo finale esplosivo Perché cioè Io non volevo che esplodesse mezzo mondo Volevo solo eliminare le prove del mio reato Lasciate un like e un commento Se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao Ciao